Ciao a tutti, sono Samuel Aperti, fotografo e filmmaker e oggi voglio presentarvi The Answer che è un software, un plugin che io sto utilizzando su DaVinci Resolve diciamo che emula un po' gli effetti pellicola che chi mi conosce sa che a me piacciono molto siamo su DaVinci ho già importato dei file di Nikon Raw e dei file di Blackmagic andiamo a vedere come lavorano questo è un video musicale che abbiamo girato quest'anno ok troviamo ok un Eroshot andiamo nella parte della Color di DaVinci e qui in effetti possiamo scrivere The Answer e viene fuori il plugin basta trascinarlo nel nodo ok e possiamo andare a selezionare l'input source in questa casella ho notato che se facciamo Choose Camera non abbiamo ancora il profilo colore Nikon quindi in questo caso io faccio un Color Space Transform nel nodo Prima e posso trasformare la clip che in questo caso è un NRO quindi è un Color Space 2020 e input gamma Nikon Log qua la posso trasformare o in Rec.709 direttamente o se no in uno spazio colore anche più ampio potrebbe essere un DaVinci with Gamuts e un Gen 5 possiamo dare un film Gen 5 poi dentro The Answer facciamo Choose Camera e Blackmagic in questo caso facciamo una Pocket 6K va benissimo in questo modo abbiamo convertito il Nikon Raw in DaVinci with Gamut che comunque è uno spazio colore molto grande e possiamo andare poi a fare diverse correzioni in The Answer subito sotto abbiamo delle correzioni come esposizione, temperatura colore, tinta e via dicendo e queste correzioni qui vanno a modificare il file originale subito sotto abbiamo il film perciò la scelta della pellicola su cui viene registrata l'immagine in questo caso adesso c'è una Kodak U265 una Kodak Vision 3 250D lasciamo questa e vado subito nella sezione Print dove si dice su cosa vogliamo stampare proviamo a dargli comunque Kodak vedete che qui l'immagine cambia proviamo quest'altra ok lasciamo questa Kodak 2383 qui se guardiamo l'immagine grande vediamo che già abbiamo già un buon risultato così senza con diciamo che già abbiamo un buonissimo risultato ma qui possiamo nei vari settaggi andare a ritoccare minuziosamente la nostra clip allora abbiamo un Film Developer dove possiamo se noi facciamo Enable e Disable dobbiamo lasciarlo attivo possiamo andare a modificare il contrasto Gamma Color Separation e Color Boost poi abbiamo la Film Compression che sarebbe la compressione del film e qui passiamo è molto io adesso disabilito questo un attimo questo è molto interessante per come va a lavorare sul file mi piace molto la Film Compression è un altro settaggio molto interessante perché c'è il Color Density che è una cosa che a me piace molto si può dare densità al colore e poi un'altra voce secondo me molto figa è il Tonal Range che praticamente riusciamo andare a selezionare solo una certa tonalità dei colori poi abbiamo Expander dove possiamo lavorare sul picco dei bianchi e il picco dei neri che io utilizzo molto anche questo perché posso regolare e alzare se sto clippando dei neri e viceversa anche i bianchi posso abbassare e alzare i bianchi il Print l'abbiamo già visto ma comunque il Print ha anche lui l'esposizione il contrasto e il Color Density ma lavora diversamente perché lavora in fase di stampa perciò se vedete se andiamo a alzare l'esposizione qui sul Print va a lavorare diversamente che se alziamo l'esposizione qui nell'input andiamo a vedere un altro file adesso importo un file Blackmagic questo è girato con un Ursa 12k se andiamo sempre in Color The Answer qui mettiamo direttamente il The Answer e voilà in Input diciamo Choose Camera Blackmagic qui in questo caso Pocket Ursa 12k non c'è però io ho utilizzato molto la 6k la 12k so che i profili i colori sono molto molto simili se non identici quindi va bene 6k Gen 5 e voilà qui abbiamo già un look molto bello senza con The Answer in questa sezione funziona anche da Color Space Transform quindi trasforma un file log a un file pronto per il web in questo caso REC709 perché è la nostra timeline impostata così proviamo a dare un Fill Print Kodak ancora ma gli diamo un Film Fuji o se no vediamo facciamo un po' di prove qui abbiamo tantissimi questo è Fuji Instax che lavora molto bene mi piace se no vediamo una Fuji Neopan questa è bianco e nero Ilford bianco e nero bella Color Color Plus diciamo che bellissima anche questa Fuji Pro 400h teniamo questa qui e andiamo a lavorare e a svilupparci un attimo l'immagine io parto dal Print alzerai leggermente la Color Density abbasserai la saturazione un pochettino poi in Expand andrai a alzare un pochettino i neri se no abbassiamo un attimo il contrasto in Print ok ragazzi qui stanno già tirando fuori un'immagine che lavora molto bene molto molto bene e qui voglio farvi vedere altre cosine che si possono fare c'è un Color Head che praticamente si può andare a cambiare il blu yellow e magenta green via dicendo per andare a cambiare un po' i settaggi del nostro film emulation poi abbiamo una voce film grain perciò andiamo istantaneamente diversi grane che possiamo applicare sul nostro footage 8 mm 50 ISO 35 50 ISO 35 500 e via dicendo la 35 a 250 ISO mi piace molto adesso abbasserei solo un pochino un po' la 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 mount qui abbiamo l'ailation che qui che abbiamo una scena in controluce si può notare eccola anche qui in mask mode noi se selezioniamo la nostra mettiamo 8 mm super 8 ecco così è bella pesante qual'era super 16 ok vediamo che abbiamo tutta l'ailation attorno al nostro soggetto vediamo che è pesantissima con l'amplify possiamo andare a ridurla o aumentarla secondo me adesso questo qui è molto esagerato l'ho fatto solo per farvi vedere come funziona vi trovate un 35 super 35 mask mode così è molto molto saturn molto lieve facciamo super 16 eccola qui abbiamo un pochettino l'ailation qui nei bordi che secondo me funziona bene poi abbiamo anche l'effetto bloom che è quello che fa esplodere le luci un po' diciamo passatemi il termine un effetto promised ok qui vedete come cambia la parade quando abbasso e alzo praticamente ci alza un po' i mezzi toni le luci poi abbiamo anche il film damage che praticamente sarebbe il graffi sulla pellicola o se no la polvere e anche questi si possono aggiungere direttamente da The Answer e si può scegliere uguale alle altre situazioni diversi millimetri di pellicola vedete qua già mi ha aggiunto dei della sporcizza e è anche animata perciò si muove quando il footage va avanti e poi dopo abbiamo il get wave film breath breath e via dicendo questo ha già un bellissimo look secondo me fatto davvero in pochissimo tempo andiamo a vedere un'altra clip qui abbiamo un'altra clip Nikon e un'altra clip vediamo questa clip Nikon che è una situazione un pochino particolare perché c'era una luce colorata i Calvin sono giusti ma comunque avevamo una gelatina davanti all' Apture andiamo a mettere sempre the answer e nel nodo prima stavolta mettiamo un color space transform e impostiamo spazio colore REC 2020 che è così che lavora il profilo N-Log di Nikon e input gamma Nikon N-Log però lo trasformiamo direttamente in REC 709 cosa succede? adesso quando andiamo dentro di answer noi dobbiamo dire input source REC 709 così noi andiamo a lavorare comunque sia correttamente il nostro file film proviamo un Kodak Hectar 100 Hectar 100 print vediamo subito a dire come lo vogliamo stampare facciamo un Kodak 2083 print vediamo se c'è qualcos'altro di film io vorrei farvi vedere un Cine Steel 800T bello caldo adesso andrei a provare a cambiare la temperatura in input per raffreddare un attimo qui vediamo che abbiamo gli highlights che sono molto su ma non stanno clippando però abbasserei leggermente l'esposizione da qua ok poi in film abbasserei ancora un po' l'esposizione color density contrast black point tiriamo un pochettino su molto particolare questa scena vediamo bisogna attivarlo chiaramente se no questo non funziona e voilà così abbiamo già un look che vedete molto velocemente volendo io qui andrei a attivare togliere relation il film grain lo abbasserei molto e andrei a provare a spostare un attimo esatto andrei a lavorare sul color heads perciò con il shadow possiamo andare a cambiare un po' il tono delle shadows mid tone highlights mi piace dare anche questo blu nei highlights qua e possiamo passare l'impact che praticamente va possiamo abbassare o alzare queste regolazioni che abbiamo fatto subito qui sopra e voilà andiamo a vedere l'ultima clip che abbiamo che ho importato per questa prova è un altro clip della black magic ursa 12k però stavolta in esterna in luce naturale ok in questo caso basta importare the answer nel primo nodo e andiamo a dire choose camera uguale a prima black magic poc tsk gen 5 proviamo un'altra pellicola proviamo questa akfa akfako del 1991 e andiamo a stamparla sempre in kodak 2383 ok questa già potete vedere come ce l'ha convertita il rack 799 e va a lavorare c'è un po' di grana allation bloom e dicendo io abbasserei sempre un po' di grana all'allation no non c'era scusate all'allation bloom alziamo il bloom vedete il bloom come va a lavorare guardate questa finestra qui in questo punto se lo alzo vedete come cambia abbassandolo ci fa proprio questo effetto dreamy passatemi il termine poi andrei a arfim print poi andrei ad abbassare un po' il black point per dare un pochino più di contrasto e voilà e qui abbiamo subito volendo una nostra conversione pellicola funziona molto molto bene un'altra voce carina che abbiamo sempre all'interno di The Answer sono gli aspect ratio che sono sotto la voce di Overscan dove possiamo abilitarli e vedete già qui ce n'è un impostato e poi dentro abbiamo 8 mm super 35 e via dicendo possiamo scegliere Polaroid possiamo scegliere quello che ci piace di più o che ci serve per il progetto direttamente dentro a un unico plugin abbiamo anche le vignette perciò possiamo andare a aumentare o diminuire la vignettatura diciamo che fa davvero tante 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 cose perciò in un unico plugin questa è la versione di Answer Pro abbiamo tutto quello che ci serve per realizzare una color e dare un look più o meno forte al nostro footage io attualmente sto utilizzando The Answer Pro per appunto il prezzo vanno dai 490 dollari se non sbaglio una tantum perciò vitalizio o se no 300 dollari all'anno poi ci sono altri pacchetti più piccoli e via dicendo non so se mi daranno un codice sconto in caso ve lo lascio qua sotto in descrizione spero sia stato utile ho un plugin che sicuramente per alcuni lavori dove non abbiamo il colorist e via dicendo sicuramente utilizzerò mi piace mi piace come funziona chiaramente come tutte le cose più si va nel dettaglio più si può ottenere un risultato migliore è una cosa bella che The Answer ve lo permette vi permette davvero di andare all'interno a fare tutte le regolazioni per ottenere quello che state cercando secondo me è un plugin che potrebbe utilizzare anche dei colorist professionisti quindi secondo me è molto molto valido spero sia stato utile alla prossima per ottenere la prossima per ottenere Grazie a tutti